Chiudere, fra l'altro uno degli aspetti tipici dei dibattiti sulla satira è che il moderatore viene preso per i fondelli regolarmente, quindi mi sento in una posizione abbastanza delicata. Abbiamo intitolato il dibattito Twitter killed the video stars, poi in realtà di star del video ne abbiamo veramente poche. Sono state uccise, quindi... Anche se alla fine poi per la tv ci siamo passati tutti. Diciamo che il più televisivo è Luca Bottura. Perché ho la forma di uno schermo. Perché fa la radio, che sono parenti, insomma, dall'altra parte... Cos'è la radio? La tv senza il video, no? Conocci? Lo stavo ascoltando, scusate. Se spegni, se non la guardi, l'ascolti e basta, la tv in fondo è come la radio. Comunque lui è un stato, ed è un autore televisivo affermato, nel senso che afferma di esserlo, ed è uno degli autori di... è stato uno degli autori di Maurizio Crozza, lo sei ancora, mi sembra? No, però... Ma ogni tanto di notte lo chiama ancora per così farsi aggiustare le battute. Sì, Geppi Cucciari, di Papa Francesco... Ah, sei tu l'autore dei tweet di Papa Francesco? Soprattutto quelli sporchi. Ecco, il sospetto è che la rete, moltiplicando le opportunità per fare satira, per cimentarsi, per mettersi in gioco, per provarci a mettere in circolo il proprio materiale, abbia spiazzato completamente i canali ufficiali della satira, i giornali e la televisione. Io, per anzianità, ho attraversato un po' tutte le varie fasi della percezione... Petrolini, Petrolini, Macario, questi grandi personaggi con cui hai lavorato. Graffiti rupesti. C'è stato un momento in cui la satira sembrava... aveva un aspetto salvifico, insomma, la satira era la leva che poteva far saltare la politica, Roma antica. No, guarda, già negli anni settanta, negli anni settanta, mi ricordo quando i falsi del male sembravano avere una potenza eversiva rispetto al modo di comunicare, non solo, ma anche rispetto proprio al modo di pensare. Poi c'è stato tango, c'è stato cuore, io partengo proprio... e mi sono innamorata della satira perché c'era la sensazione di poter fare veramente qualcosa di utile che andasse al di là dello sfogo, del pure e semplice divertimento. D'altra parte, poi, i canali satirici erano veramente pochi, c'erano questi mitici giornali che leggevo e poi in cui ho avuto la fortuna di lavorare, c'erano alcune meravigliose trasmissioni televisive, pensiamo a quelle storiche del gruppo di avanzi. Forse era anche proprio questo aspetto della rarità e dell'autorevolezza di chi la proponeva a rendere la satira qualcosa di importante, un momento importante anche della formazione politica delle persone. Poi è successo qualcosa, con la rete abbiamo tutti scoperto quanto è facile e bello cimentarsi con la battuta e diffonderla e farla circolare con rapidità prima inimmaginabile. Fra l'altro in una forma diversa che secondo me è stata sdoganata e diffusa da Gine Michele con le formiche, che ha proprio fatto innamorare una generazione della forma battuta e ha la voglia di farla, di diffonderla. E la rete, soprattutto Twitter, era il mezzo ideale per proporla. Però ecco, il dubbio è che attraverso questa diffusione della satira ci sia stato una specie di dumping. Come? Tanta satira uguale niente satira. È così diffusa che ormai non te ne accorgi neanche più, ha perso forse potenza ed efficacia. Facciamo una moratoria che per un anno nessuno scrive più battute su Twitter, siete d'accordo? La facciamo, hanno rotti i coglioni, basta. Ce n'è abbastanza da leggere per un anno. E questa è la conclusione, quindi ci salutiamo qui. Grazie, arrivederci. È bello che sono... Hai già detto quello che dovevamo dire. Eh, lo so, sono saltato la conclusione. Ormai qui vi conoscono tutti, però dai, facciamo un giro di presentazioni. Stefano Andreoli di California Dream Man. Buongiorno. No, è bello vedere l'entusiasmo di questa sala, così attenta e partecipare. Io vorrei ravvivare un po' il dibattito. Ragazzi, entro mezzogiorno uno di voi verrà ucciso. Non vi dico chi qua dentro in questa sala. No, è veramente tanta roba. Beh, intanto i maroni di un sacco di gente, penso che ci andranno. I maroni di un sacco di gente faranno una brutta fine prima. Quello sì, no, vabbè, non buttarti. Sei il relatore che butta giù tutto l'editorio, il basso profilo. Basta, siamo molto fighi, siamo qua sopra. Non siamo loro perché siamo più fighi, se no saremo laggiù. No, ma il dibattito più interessante è quello che si sta svolgendo. Non gli dare dei psicofarmici. Eh vabbè ragazzi, scusate, bisogna un po' ravvivare. Qui hanno fatto tutte le cinque come me, credo. Quindi la voglia di sentire parlare di Satira è come la voglia di assistere a un'autopsia, credo. E ragazzi ci tocca, dai. Che più o meno è quello che stiamo facendo qua. La Satira si fa, non se ne parla, capisci? Un po' come il... No, non mi ricordo più. Comunque hai ragione. C'è un intervento serio che interrompe questo cazzetto. Ciao a tutti. Azzel, signore e signore. Mica cotica. Cioè che lui è il nostro econometro, quando lui si alza se ne va va a dire che è finito il dibattito perché c'è il... Lo faccio anche a casa. Facciamo delle cene, a un certo punto mi alzo e vanno via tutti. E' bello, si portano le polpette magari dal piatto. Funziona bene. Vabbè, decidiamo chi deve difendere. Eucaristica. Decidiamo chi deve difendere la vecchia Satira di una volta. Allora, dai. Era bello una volta la Satira. Vi ricordate quando c'era... Buono, non so. Cuore. Fai una domanda. E poi dopo si andavano tutti a dormire. Tutti a dormire dopo cuore. No, è sbagliata la carosella. A volte anche durante, nell'ultima fase, però questo è un discorso diverso. Vabbè, allora... Perché le pironano il microfono. È un lavoro sporco ma qualcuno lo deve pur fare. Una cosa che si rimprovera, anch'io rimproveravo, al battutismo è quello di non essere inquadrato. Cioè è una specie di sniffata di Satira che lascia il tempo che trova. Chi è scresciuto con esperienze un po' più totali come appunto Tango Cuore, in cui la battuta, il titolo, era inserito in un pezzo satirico, in un contesto più ampio. Diceva, insomma, qual è questa roba? Un gioco fine a se stesso. Una battuta senza cuore. Una battuta senza cuore, infatti. Allora, o delle due luna, o è come... Nel secolo scorso piaceva il melodramma, adesso piace la canzone più o meno, l'articolo di Satira sta... Il secolo scorso era però quello di cui stiamo parlando, cioè avanzi, eccetera, te lo ricordo. È fine secolo, dai. Ti prego di non ispirirlo. Voi che siete, vi chiedo poi di presentarvi quando parlate, siete i rappresentanti di questo nuovo modo di fare Satira, cioè il laboratorio, la battuta diffusa, martellata, riproposta. Cosa avete da rispondere? È la nuova forma di Satira questa o c'è? Ma non è una nuova forma, semplicemente costruire contesti in un mondo che si mangia le notizie in quarto d'ora è molto faticoso, perché Vottura scuote la testa, cosa che fa sempre apposta per mettere a disagio l'interlocutore. No, costruire contesti è faticoso, perché Cuore era un progetto, era anche un linguaggio che era perfettamente inserito nella comunicazione di quel che palle, mi sto annoiando tantissimo da solo. No, ma comunque basta, comunque di cuore la parte divertente erano i titoli, l'articolo non li leggeva nessuno, quindi era uguale. Quindi anche allora era uguale. Quindi un attacco personale a Lia. No, non mia vita non aveva senso. No, però se posso aggiungere un meccanismo che conferma quanto ha detto l'illustre collega. Non ho ancora detto niente, ma ti ringrazio. Noi chiudevamo e ci arrivavano due giorni prima che uscisse il giornale, per dirne una. Quindi nel periodo di Tangentopoli, quando arrivavano avvisi di garanzia a Rafica, eravamo costretti in prima pagina a mettere gli italiani in cui si chiedeva al lettore di aggiornare a chi erano arrivati. Risi di garanzia, quindi signorire, Craxi, Craxi secondo estratto e così via. Adesso hai questo piccolo vantaggio che quando ti viene la stronzata immediata hai un contesto completamente diverso, viene cotta e mangiata in pochi istanti. E con questo direi che la parte nostalgica l'abbiamo conclusa e passiamo al futuro. Passiamo al futuro. Ah, Zael, cosa ne pensi? Dimmi, caro. No. Cosa ne pensi? Non passiamo al futuro. Non passiamo al futuro. Oggi che giorno hai nella tua testa? Non ne ho alcuna idea. Perfetto. Meglio passare al futuro che passare a fare futuro. Oddio mio. Ecco, per esempio, il fatto che le notizie non si dimentino più. Esiste ancora fare futuro. Ma anche futuro e libertà, cioè cose vestigia del passato. Il PD e queste cose che non esistevano più. Quando postiamo una battuta su Spinoza, noi dell'Italia e di Spinoza, volevamo... Spinoza è l'Italia che amo, no? Spinoza è il paese che amo, sì. Non abbiamo messo le mani nelle tasche degli italiani e quando postiamo una battuta, cercando sempre di sceglierla bene, è come se tracciassimo, lo diciamo sempre, un puntino di quei della settimana enigmistica. Alla fine forse c'è un disegno, ma... Aspetta... Aspetta, questa qua l'aveva detta lei. L'aveva già detta te? L'aveva detta alla presentazione che abbiamo fatto qua. Sì, ma sono passati tre anni. L'ha detta lei. Ho capito. Ma la stai riciclando con lei? Ma sono passati tre anni, lascia stare. No, però in effetti questa cosa... Non si ricordava neanche più di averla detta. No, eh... Vabbè, però ha perso il filo. Ma perché sei una testa di cazzo, porca puttana? Uno non si deve vantare di non aver messo le mani nelle tasche degli italiani. Bisognerebbe mettere le mani nelle tasche dei tedeschi. Nelle tasche dei tedeschi. Frase che io non riesco a pronunciare perché è piena di suoni palatali. Ma detto questo, volevo dire che comunque Rimini è bella ma non ci vivrei. Era venente. Hai fatto come luttati, cioè hai fatto un calco migliorativo. Esatto, ho migliorato la battuta. No, appunto, non mi ricordo più cosa volevo dire grazie a questo stronzo. Puntini, Alessandro Buoni. No, ma tu vivresti soltanto se diventa... Puntini, alla fine. Se diventa un enclave di San Marino. Per chiudere il mio ragionamento, poi ho la macchina in seconda fila, quindi vi abbandonerei molto volentieri. Che peraltro è mia. Che peraltro è mia. Ma proprio che io smentisco che qua si allunghi l'aranciata con l'acqua negli alberghi. Questa è una notizia che è girata su Twitter stamattina. Cosa è successo? Che allungano l'aranciata nel buffet della colazione. Questa è una cosa che mi rifiuto. E magari svitano anche la vodka, la bevono e poi riempiono con l'acqua del rubinetto. Allungano l'acqua. Con l'aranciata. Allungano le arance, proprio all'origine. Ah, proprio. La filiera. Allungano l'acqua e perché... Io volevo chiedere una cosa a... Si vede che non abbiamo voglia, vero? Ma si vede tanto, secondo me. Adesso, vai, calmati un po', che bisogna fare un giro a far parlare un po' più. Ma io non ho ancora detto quello che volevo dire, santo cielo. Metto gli occhiali. Volevo chiedere a Pintino. Per avere più carisma. Perché chiudiamo l'inserto satirico? No, però questa è una domanda interessante. Dai, dai, che c'è un titolo. Con quello che ti voglio chiedere. Cuore ha sdoganato un certo tipo di linguaggio satirico. D'altra parte Marco Travaglio ha debuttato, ha testato questo suo linguaggio, che veramente a volte è prettamente da autore satirico più che da giornalista. Marco ha un difetto. Da piccolo lui ha visto, credo, almeno 40 volte, ciascun figlio del film di Totò che sia mai stato trasmesso. Cioè, lui conosce a memoria tutte le battute dei film di Totò. Ed è nata così la cosa di Marco. Infatti è vero che tre quarti dei titoli dei suoi articoli sono... Esattamente. Sono solo citazioni. In realtà non ha nessuno il repertorio di suo. È una citazione dietro l'altra, in realtà. Scherzo, ovviamente. Un certo approccio satirico nei titoli e anche nella scrittura è debordato nei giornali normali. Perciò non c'è più bisogno neanche dell'inserto satirico del giornale satirico perché ci sono giornali, il primo capostipite è libero naturalmente, voi siete venuti dopo, che soddisfano il fabbisogno quotidiano di satira e di stronzate, diciamo soprattutto parlando di libero. Ecco, ma non è che ci avete portato via parecchio lavoro in questo momento? No, secondo me è stata la nostra classe dirigente che vi ha portato via lavoro. Questo è vero. Cioè il punto è che quando Berlusconi ti dice, ti racconta quella fantastica storiella, io e Fedele Confalonieri abbiamo fatto un patto che quando saremmo stati vecchi uno avrebbe detto all'altro se era rincoglionito, a uno gli viene in mente di dire per favore Fedele è arrivato il punto che tu dica qualcosa a Berlusconi. Cioè è lui che ti dice queste cose. Secondo me davvero da questo punto di vista Berlusconi alla lunga, per tanti anni ci abbiamo mangiato tutti diciamo, alla lunga invece Berlusconi e chi gli è andato dietro ha reso complicato tutto questo. E rispetto al nostro inserto satirico ce ne siamo resi conto, perché poi è stato un bieco conto economico e ci siamo resi conto che tante pagine alla domenica di satira non da un certo punto in più non ci portavano una copia in più. Io credo che sia stati loro davvero ad ucciderla da questo punto di vista. Ma a questo punto dobbiamo riscoprire la satira sull'aranciata Anna Quatta. No ma infatti era, questa è una domanda che poi giro a tutti, forse dovremmo smettere di fare satira sulla politica perché diciamo che trent'anni hanno dimostrato che fare satira sulla politica non serve assolutamente un tubo se non forse a glorificare e consolidare i suoi bersagli. Mi lasci dire una cosa noiosa? Forse per come la vedo io dovremmo continuare a farla, ma farla più approfondita, cioè non fermarci solo. Oppure cambiare bersaglio, perché per esempio anche già ai tempi di cuore chi si arrabbiava veramente quando veniva preso di mira erano i marchi, erano le aziende. E ieri Selvaggia Lucarelli diceva che chi l'aveva querelata non erano i politici citati occasionalmente, però le persone dello spettacolo. Ma questo ti dimostra chi è il vero potere. Infatti, allora dovremmo forse spostare l'obiettivo. Non ha capito. Bella. Non è che continuiamo a fare satira politica perché oggettivamente è più facile, si corrono meno rischi, perché se ti fa una grossa azienda, ti fa causa, sei... Ma la satira politica fa gioco a chi la riceve, cioè Mastella è stato tenuto in vita dalla satira, Scilipoti anche... C'è una sorta di formalina che tiene in vita. Sì, sì, continuare a parlarne rende questi personaggi degni di essere eternati. Quindi l'unico modo per tenere in vita è il PD, anche prenderlo per il culo da mattina e sera. Il PD ce la fa benissimo da solo, cioè non è quello il problema. Invece le aziende si incazzano perché se uno prende di punta un messaggio, dice non compro più sta roba, dopo... Bisognerebbe fare più satira sulle aziende. Comunque comprate Simmental, che è una carne buonissima, non che mi abbiano pagato per dirlo qui. Lo dico perché ne sono un grande fruitore. E anche nel Sempiatti è molto buono, sgrassa con metà dose. Ma detto questo, comunque le aziende dovrebbero essere colpite, sì, sono d'accordo. Forse il punto è che appunto nel momento in cui la politica ha infusione meno sulle nostre vite, perché intanto è assolutamente indifferente... Cosa diceva Mark Twain? Se votare contessa qualcosa non ce lo farebbero fare. E noi abbiamo avuto la dimostrazione negli ultimi anni, diciamo negli ultimi dieci, che non contava assolutamente niente. La gente comincia a rendersene conto e quindi è più importante occuparsi della Simmental, che qualcosa influisce sul tuo bambino che va a cagare la sera, insomma. Credo che sia davvero il punto questo. Altri pareri? Michele? Sono sempre discorsi complicati, che sicuramente non è... Altri, alti, alti. Perché poi si parla di satira, ma in realtà di dentro c'è di tutto. Ricci chiama striscia notizia satira, il motivo fondamentale, perché così quando finisce in tribunale ha un cappello che lo para da quel punto di vista. C'è la satira, se consideriamo satira, quando per esempio muore qualcuno, piovono battute, abizzeffe, su tutti i siti più o meno satirici, e quella è satira. È satira anche quella di cui parlavamo prima in maniera molto più alta, quella che si rapporta al potere, e normalmente dando uno sguardo sghembo di lato, e quella ovviamente deve rivolgersi al potere, perché sia efficace. Che adesso il potere in Parlamento non rappresenti poi così tanto, credo che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel senso che non sia lo stesso potere che c'era 25 anni fa, quando c'era Quark, c'era 20 anni fa, quindi... Non fa finta, c'è neanche tu. Quindi ci sono tante cose che vanno lì dentro. Sicuramente andare contro il potere vero sono cazzi, perché partono subito gli uffici legali ed è un disastro. In fondo lo stesso cuore alla fine è morto anche per problemi di questo tipo, nel senso che quando è virato da una satira, diciamo più alla Michele Serra come più giocosa da tanti punti di vista, all'ultima fase, poi si è portata dietro anche tutta una serie di denunce che non l'hanno certamente aiutata. Posso parlare male di Sabelli Fioretti qualche minuto? No, perché fa sempre piacere... E quindi si può parlare di, annoiando le persone, di un miliardo di cose, compreso il linguaggio, perché una cosa veramente forte di cuore è il modo in cui rappresentava la realtà da tanti punti di vista, sia dal punto di vista del modo di... appunto le prime pagine di cuore sono quelle che sono rimaste nell'immaginazione di tutto, ma poi sono entrate in tutto il resto, nella stampa, nei giornali normali e da tutti gli altri punti di vista. Se andiamo a parlare adesso della satira che facciamo noi, io parlo, io sono qui per Prugna, non so appunto quanti voi lo conoscano, ci sono... lui lo conosce. Sei anche vestito giusto. Esatto. A parte che ti viola su un palco, se ti fosse Fazio qua, ti spaccherebbe in due. Ma adesso c'è un linguaggio che si è abbastanza definito, anche poi per merito del lavoro di Spinoza, in cui molto spesso c'è una struttura della battuta su una linea che parte da una notizia presa da un sito di informazione online, repubblicaocorriere.it, virgolettato, e la battuta a seguire. Quindi ci sono quelle più o meno felici, però il meccanismo rimane molto stretto in questa... Faccio notare che ha citato Repubblica, il Corriere, non il fatto, perché il fatto ti fornisce già la battuta, e quindi Spinoza non riesce a farne una contro battuta. Grazie, mi hai ragione. No, se posso aggiungere una... No, solo una cosa per finire. Nel senso, all'interno di questo meccanismo è impressionante come arrivino delle nuove generazioni che vengano a proporre delle battute, dei materiali, e i punti di riferimento sono questi praticamente in maniera unica. Ecco, io credo che una differenza grossa, proprio dal punto di vista dei modi di esprimere la satira, sia che adesso, in qualche modo, almeno sulla rete, ci siano degli standard, proprio di struttura, di linguaggio, che sono molto codificati e molto ristretti. Io credo che a questo punto, insomma, valga anche la pena di andare oltre questa forma e recuperare strutture, in qualche modo, satiriche, anche diverse dal punto di vista... Mi aggancio a te per dire una cosa che probabilmente, appunto, integra quello che ha detto Gaspar Ebitetto di 10.000 a me, visto che non si è presentato, lo presento io, per chi non lo conoscesse, i padri di Casaleglo e tante altre bellissime cose che sono più strutturate, più... Casaleggio, si dice. Casaleglo. No, Casaleggio, si chiama. Sto facendo... Casaleglo. Fai fingere il cretino. Vabbè, ho capito, vabbè, allora è inutile. No, e non mi ricordo, mai mi interrompono sempre, scusate. E, appunto, i tentativi di fare satira più organica o di costume o comunque che vadano oltre al... che vadano oltre, secondo me, appunto, alla sniffata di cui parlavi prima è un po' un problema di pubblico. Io quando fruisco di satira o provo a fruire mi rendo conto che non sono più la stessa persona che guardava Avanzi o Tunnel o l'Ottavo Nano. è veramente un problema, secondo me, di soglia di attenzione che nel giro di... una farfalla, scusa, che nel giro degli ultimi vent'anni secondo me si è drammaticamente abbassato. Io non riesco più, vedo un testo e mi spavento. Non so se sia così, soprattutto su internet. Mi posso agganciare anch'io a quello che dicevi tu. Forse è vero, perché su internet hai questo problema del fatto che sei continuamente bombardato da nuove cose, quindi riesci a dare un minimo di attenzione a ciascuna. Però se tu ampli il contesto, no? Per dire, a Roma c'è un panorama di stand-up comedy, nuova, meravigliosa. Ci sono dei ragazzi che scrivono dei monologhi bellissimi che hanno meno spazio, perché comunque ti richiedono di metterti lì e di goderti uno spettacolo per mezz'ora, un'ora. E lì è un panorama più organico, perché oltre a fare la battuta, riesci anche a portare avanti un discorso, parlare di un argomento e nuclearlo un po'. Con la battuta lo rendi piacevole, quindi non li annoi per un'ora. Li fai divertire e hanno anche ragionato su qualcosa. Quando, ti cito Doug Stenope, che conoscerete, lui diceva, non è possibile che ogni volta ci accorgiamo di un problema, ci limitiamo a fare la battuta dopo e il problema ne sta lì. Dovremmo anche offrire delle possibili soluzioni, delle opinioni, veicolare un ragionamento, perché sennò è quello che qui in Italia significa fare comicità. Noi non abbiamo in Italia l'alternativo del termine americano comedian, perché lì sono tutti comedian. Che tu faccia una cosa seria o che faccia una cosa meno impegnata, sei un comedian. Qui se dice a qualcuno che è un comico, quasi si offende, come se essere comici significa semplicemente dire la puttanata. E allora adesso diciamo tutti che facciamo gli autori di satira, perché sembra una cosa più impegnata, no? Però se vogliamo fare satira, allora non ci limitiamo solo a dire la cazzata, facciamo anche un po' di ragionamento sociale, facciamo in modo che abbia un valore. Però perché, e lo chiedo a te e a tutti noi, perché questa roba qui in televisione non trova sbocchi da una quindicina d'anni? Per lo stesso motivo. Forse l'ultimo comedian televisivo è crozza, probabilmente. Ma parliamo di Zelig. Allora, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'era una trasmissione di satira, a meno nelle loro intenzioni, è stato quello che è stato. E c'erano gli stand-up che facevano satira. Perdonami, ti dico una cosa, sua gratis, perché i pezzi di stand-up che facevano i ragazzi di Satiriasi erano gli unici pezzi che non andavano in diretta. No, no, ma infatti noi difendiamo Satiriasi, cioè nel senso la nostra accusa è alla televisione che non ti crea dei palinsesti che valoreggiano queste persone. Esatto, e fanno finta di farlo. Sono stati morati al massacro. Nel momento in cui gli fanno registrare il monologo e quello che va in onda è lo scempio del cadavere del monologo, alla fine loro fanno delle cose bellissime, li guardano in tv le persone e dicono che cazzo è questa cosa? E quindi non danno quell'effetto che farebbero a vedersi dal vivo, perché la tv lo spazio non glielo dà. Certe cose non le puoi dire perché hai lo sponsor, non le puoi dire perché sennò offendi qualcuno, non le puoi dire perché come piace dire a te in Italia abbiamo tutti un amico e quindi non ci sarà mai la rivoluzione, cosa che a me fa venire i capelli dritti, sta cosa. Perché se veramente dobbiamo tutti un favore a qualcuno, smettiamo di fare i favori alla gente, smettiamo di avere gli amici, abbiamo gli amici sbagliati. Però comunque guarda che è stato il web. È bellissimo, era il primo intervento che ho visto stampato con una di quelle macchine offset anni 70, questa era molto bella, ci mancava. No, perché io... Non capisco niente, io non so nulla di nulla, però credo che l'obiettivo di uno che faccia battute, anche con un pensiero dietro, perché la satira vive un minimo, parte un minimo dell'indignazione, non sia fare la rivoluzione. Cioè noi dobbiamo avere una mediazione artistica e arrivare a un contenuto, non viceversa, perché altrimenti il nostro obiettivo principale, che è quello anche di far ridere, è morto, perché se no diventiamo grillo. Cioè è la deriva, è quella. E quindi arriviamo al paradosso che uno che è partito dalla satira, tutte le volte che gli fai notare che sta dicendo una marea di minchiate, si fa paravento della satira, e poi però ti respinge l'amittente qualunque tipo di critica. Però devi anche considerare che la risata non è il fine, la risata è il mezzo. Tu la costruisci in maniera tale da... Dipende, dipende come la vivi. Per me è sempre stato anche il fine, se no farei dell'altro, se no sarei in politica. Allora su questo non siamo d'accordo. Infatti ognuno poi ha appunto il proprio approccio al tema. Cioè secondo me, ti faccio un esempio tecnico di una grandissima, che tutti quanti amiamo per mille motivi, però ecco faccio un parallelo. I guzzanti, no? Sabina Guzzanti è il messaggio che prevale sulla tentativa di far ridere. Corrado Guzzanti è invece la risata che si vale poi di un pensiero. Paolo Guzzanti è la sintesi, perché non c'è il messaggio né... Però... Però a me come gusto personale, cioè mi spoglio, non fisicamente per fortuna, ma di quello che faccio di lavoro, piace di più Corrado, perché Corrado mi fa ridere e poi mi dice anche qualcosa. Aggiungo, poi faccio finta di aver capito qual è il tema della serata, perché era... Faccio finta di aver capito che il tema della mattina... Ah, non è sera, vabbè. E allora, la differenza tra televisione e Twitter, per dirne una, no? Un po' come quella tra mattina e sera. No, molto sì, esatto. Molto semplicemente. Twitter, per esempio, la televisione non l'ha capito, la televisione non capisce i social. Perché? Perché quell'energia che c'è su Twitter in televisione non arriva. Uno, perché abbiamo questi editori che sono una marea di persone che hanno da fare a favore, il problema non sono i nostri amici, il problema sono gli amici dei direttori di rete, non c'è Vianello, vero? No, ok. Che tra l'altro è più bravo di tutti, nel caso ci fosse. Sei veramente un pezzo di merda. È l'unico veramente indipendente, ok, Vianello. Ma gli altri hanno tutti tolto Vianello. Ricordiamo tutti la sitcom. Ma parli di Raimondo, ovviamente. Hanno tutti, e zio di Edoardo, lui proprio, come paragone che è zio di se stesso. No, però, il problema sono gli amici, di chi sono amici i direttori. Il problema è che noi abbiamo sostanzialmente una situazione semilibera in tutte quelle che sono le emittenti televisive nazionali. Io ho lavorato alla Sette, che teoricamente era per un periodo il bengodi, con ancora non è arrivato Cairo, che adesso la trasformerà, credo, in Torino Channel e magari. E anche alla Sette, comunque, le manette erano esattamente le stesse. Cioè, non puoi parlare dei prodotti, non puoi attaccare certi bersagli. Dopodiché, siccome siamo, o almeno ci proviamo, un po' bravi, trovavamo il modo di aggirare questo tipo di censura. Però, per finire il discorso di prima, la TV non lo vuole Twitter, non lo capisce. La TV succhia le battute di Twitter, non capendo, tra l'altro, che portare il contenuto comico già finito in televisione è un errore, perché sono due linguaggi differenti. Perché io, se il spettatore, voglio vedere da te un'elaborazione, voglio un programma, voglio un pensiero, anche se non sono più abituato a vederlo, perché normalmente la televisione in Italia è abbastanza merda. E quindi, portare in TV quella che è l'energia di Twitter è sostanzialmente impossibile. Ed è il motivo per cui, per esempio, i social funzionano molto meglio in radio. Perché mentre la televisione è un mezzo verticale, verticale, con uno che scende, sceglie e ruba, perché a parte noi che siamo tutti bravissimi in buona fede, però gli autori televisivi, tutti quanti, sono spesso dei ladri di intuizioni altrui, la televisione usa Twitter... L'ha confessato, signori, l'ha confessato. No, io sto... A parte di Piro che lo fa, ma gli altri no, scherzano. No, però la televisione fa questo, cioè quando coglie un mezzo antagonista lo asciuga, lo prosciuga e lo utilizza meramente. In radio, invece, che è un mezzo orizzontale, tutte quelle che sono le battute, le considerazioni e quant'altro non sono altro che una rilettura di quelli che una volta erano i messaggi, le telefonate, le dediche e quindi le cose, siccome sono paritarie, riescono a combinarsi. Ed è il motivo per cui Twitter funziona molto di più usato in radio che in televisione, perché la televisione sostanzialmente è un mezzo di malafede gestito da testa di cazzo. Grazie, Filippo. Ma io ho un'idea, un'utopia, un sogno, ma che secondo me la tecnologia ci permetterà di realizzare tra poco. Io ho un sogno accopiato, però. Sì. Scusami. Era di Luttazzi, l'altro ricordiamo. L'ha detto Luttazzi nel 98. Sì, è sempre quello, la cena elegante di ieri sera. Ah, il sogno. No, ma è una cosa seria. Io mi sto rendendo conto con lo sperimento che stiamo facendo noi con la web tv, che la tv sempre più a basso costo è possibile. E allora a un certo punto io mi immagino una qualcosa che si possa chiamare United Artists. Secondo me è un gruppo sufficientemente grosso di persone può incominciare a pensare da qui a un anno e mezzo di mettere in piedi un palinsesto mettendosi in gioco che si è fatto da una parte di web series dall'altra parte di comics e dall'altra parte di news pensando di non guadagnarci subito ma magari dopo dieci anni comprarsi la barca vela perché davvero costa veramente poco. Ci vorrebbe qualcuno che ha appena avuto 500 milioni di euro. No, no, no. Secondo me la logica che bisognava pensare è un pochino la logica che abbiamo seguito noi sul fatto. basta con questi qua. Finalmente la televisione sta diventando un mezzo non dico a bassissimo costo ma a costo molto basso. Quello che tu riesci a ottenere con una telecamera in HD da 500 euro è quasi assolutamente analogo a quello che tu ottieni con una telecamera che ne costa 20 mila se la usi con un po' di intelligente. Sta arrivando il momento in cui bisogna pensare ok ci mettiamo a rischio però magari ci va male per un anno e mezzo un po' come è successo con cuore. L'innovazione tecnologica ci permette queste cose poi io immagino un canale che sia abbia ovviamente delle news perché se no la satira su cosa si basa e che siano serie le news che diventi una palestra per le web series che adesso stanno su YouTube e non si capisce cosa stanno a fare nel senso che non guadagnano niente eccetera secondo me ci siamo quasi ed è la cosa devo dirvi a cui io sto pensando poi potremmo anche è un'offerta e non è un'offerta di lavoro perché di soldi non ce ne sono ma è un'offerta di volontariato no ma sai cosa uso un parolone inutile scusa un secondo solo etica perché quello che stai dicendo tu cioè il fatto che siano crollati i costi in questo momento in televisione significa solo una cosa che i redattori da 500 euro al mese ne prendono 250 che quelli che riprendevano a 1200 ne prendono 700 e il margine loro lo chiamano mark up io lo chiamo cresta dei produttori invece è rimasto inalterato quindi se ci fosse però non può che venire dal basso una ripartenza che in qualche modo difenda anche queste categorie perché questo è un palco di belle fighe per certi versi no è ok allora se invece questo fosse un pochino più di tutela anche per chi la fa fisicamente la televisione non sarebbe una brutta potremmo smettere di pagarli questi qui e pagarli in visibilità come fanno tutte le aziende questo è un vecchio classico pagare in visibilità tutto attaccato potrei farli in visibilità io ho visto io ho visto i contratti che facevano la pupa e il secchione salvo quelle che andavano ad Arcore cioè quasi tutte ed era straordinario perché mi hanno fatto vedere un mio amico avvocato e diceva proprio questo che loro non prendevano neanche il gettone di presenza perché in cambio dell'altra visibilità che avrebbero avuto avrebbero potuto ottenere senate nelle discoteche eccetera i bollini ed era così poi alcune finivano anche ad Ascore e le prendevano il 2000 euro però non c'era nel contratto quella cosa in buoni spesi un momento per un'informazione di servizio la messalaida di Azael si farà qui alla fine dell'incontro e non al bargio quindi non dovrete neanche spostarvi ecco io vorrei ritornare un attimo a questioni più di stile anche se questa cosa dei soldi mi colpito ogni giorno ogni giorno mi sento dire ma perché non rifacciamo a cuore un blog a costo zero a costo zero ma se rifacciamo a cuore rifacciamo Forza Italia torniamo alla lì che facciamo dal predellino però Forza Italia a costo zero è impossibile a cuore invece a costo zero quando me lo sento dire salterei con le unghie al collo perché secondo me una delle cose che rendeva bello a cuore era il fatto che chi lo faceva si sentiva professionalmente rispettato e non sfruttato quindi a un certo punto hai un senso di responsabilità e di senso di dignità del tuo lavoro che a volte chi butta le cose in rete non ha ma vabbè torniamo a questioni così più aeree forse castellinaria diciamo che le cose che non si possono toccare le aziende i VIP perché ci possono querelare e così costringerci a lavori forzati per il resto della vita però ci sono penso che ci siamo trovati tutti un po' in queste situazioni in cui altre cose non si possono toccare nelle battute la malattia e la morte che non ci possono querelare materialmente però ci possono fare avere molte noie con lettori che scrivono ci fanno tutti i colori associazioni amici delle vittime e la malattia quasi più io vorrei sapere come la pensate voi perché personalmente sono dell'opinione che forse proprio le cose che fanno più male sono quelle su cui bisognerebbe tanto le puttanate ma una roba bellissima ma proprio le puttanate sono una cosa che no 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 è il sale della vita però ecco per quanto riguarda invece l'irriverenza rispetto a quello di fronte alle cose che davanti alle quali in Italia bisogna sempre togliersi il cappello toccarsi eccetera in senso scaramantico purtroppo come la vedete voi quali sono i limiti della satire non mi veniva in mente ma finalmente ci sono arrivata con i riflessi di questa serata un po' così di questa nottata ridere sui morti intanto è bello perché non ti possono querelare secondo me altro a cui pensare però l'ha appena detta lei è vero non l'ascoltavo non tre anni fa adesso e poi basta Cristo questo è l'argomento dopo del furto parliamo ma perché non si può cioè sii coerente se lo fai su tutto fallo anche sulla tua stessa morte nel senso mi piacerebbe fare una battuta sulla mia morte per dimostrare che sono in grado di farla ma prima dovrei morire e si vede che a te non è mai successo è stata uccisa la persona che doveva morire entro mezzogiorno lo chiedo vedo molte facce che non sono più di là che di qua perché chi poi ci fa questo rimprovero pensa sempre che noi vada tutto bene cioè si faccia satira o umorismo perché sei un contentone uno a quelle cose nella vita sono andati tutte dritte non sai cos'è il dolore non sai cos'è l'infelicità perciò ti permetti di ridere di quella degli altri e non è non è così insomma voi vi siete trovati tutti più o meno in questa situazione come la pensate chiediamo ai giovani di 10.000 a me io penso che una volta che fai satira devi accontentarti del fatto che la roba può anche non piacere a te non deve importare nulla punto se il pubblico non c'è perché pensa che stai dicendo una cosa sbagliata è diritto suo avere la sua opinione però se tu la dici pensi che sia giusta punto sono vari punti di vista della stessa cosa però per me il fine è ancora importante se tu riesci a fare ridere su una cosa che disturba hai fatto un grandissimo hai fatto un grandissimo lavoro perché vuol dire che la gente va oltre la sua repulsa intima rispetto all'argomento però secondo voi perché esistono bellissime barzellette naziste non le racconto qui per mancanza di tempo scritte dai brei poi fra l'altro spesso dai una allora qual è il colmo per no soltanto scritte per lo più dai brei quindi va bene le migliori barzellette naziste hanno appunto proprio perché talvolta sono veramente i perseguitati che riescono a esorcizzare la loro condizione ma tutti noi così insomma frequentiamo anche l'umorismo e la satira di altri paesi ma secondo me è proprio qua in Italia che sono veramente argomenti scottanti perché in qualunque altro paese si scherza su morte malattie in maniera molto più tranquilla e riverente perché da noi invece c'è sempre qui si muore pochissimo comunque si scherza quindi non siamo molto abituati alla morte però ci si ammala molto siamo tutti vecchi scherza tanto anche qua il problema è che non sappiamo esattamente qual è la scena all'estero e quali sono le reazioni all'estero cioè una battuta sull'alzheimer non fa incazzare un italiano che ha il papagolo l'alzheimer fa incazzare un inglese ma tanto se la dimentica subito ma non no ma non lo sappiamo non lo sappiamo cioè non lo sappiamo via così mi piace mi piace tanto va bene quindi tanto quanto quando ti scrive un coglione che è stato portato da una tua battuta ha la cosa più bella del mondo veramente veramente ma quando non sta parlando lo lasciamo finire lui ha un mostro dentro tipo ma no figurati il discorso è che si fa la satira su qualunque argomento e in qualunque posto al mondo noi conosciamo l'italiano bene siamo su facebook che ha un blog e su un blog si piglia le risposte della gente quando scrive qualcosa di diciamo fastidioso tra virgolette e qui come in tutto il resto del mondo punto non è che all'estero le cose sono diverse sono esattamente come da noi in america però no 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 in america stoppare di cazzo cioè prova a parlare di fare una battuta sull'aborto vedi che cazzo succede da un certo punto dell'america in giù per esempio e questa è una cosa che ti ringrazio per questo tuo parere carlo torati grazie prova a fare una battuta sull'aborto anche no in america se permetti si vedono cose chiaramente magari più di nicchia però non puoi negare che ci sia una tendenza ma i tabù sono diversi qui ne abbiamo alcuni la ne abbiamo altri abbiamo anche il papa qui volendo forse va bene no però tu hai detto una cosa interessante il nonno che ha l'alzheimer il papa francesco ne sa tantissimi per 10 secondi le scrivi tu del resto esatto sono uno degli autori no non sono solo io siamo io luttati detto questo no la cosa che dicevi tu però è vera cioè il parente che ha l'alzheimer però questa no no ma è un esempio perfetto sai perché perché io invece mi rendo conto piccolissime esperienze personale che invece l'italiano medio non si incazza per la morte si incazza quando crede che qualcosa lo tocchi anche molto da lontano personalmente perché perché noi abbiamo uno potrebbe pensare alla morale cattolica noi abbiamo questa tendenza ad appartenere alla famiglia per cui quando ti toccano la famiglia ti incazzi quindi tu fai la battuta sui grillini e ti arrivano mille grillini che ti dicono uno vale uno viva Peppe ne fai una invece sugli juventini eh vabbè ma quelli del Milan rubano uguale ne fai una sulla Fiat sulla Fiat ti arriva quello che ti dice tu fai la battuta e così vanno in cassa integrazione come se fosse come se fosse colpa mia e non quello che fa degli scaldabagno con le ruote questo è il mondo infatti perché perché noi ci identifichiamo tanto è vero che le uniche due categorie che accettano volentieri le battute in Italia quelli che non si incazzano praticamente mai sono quelli che votano PD e gli interisti su quelli tu puoi dire qualunque cosa perché comunque sono abituati a soffrire a star male e quindi la loro appartenenza alla famiglia è dissimulata sono sanno di avere già espiato in qualche modo e non hanno quell'orgoglio che li porta a venire a cagare no no a romperti a disturbarti non sapevo che gli interisti fossero del PD sapevo ma sarà un interista del PD infatti puoi fare molte battute su Michele Serra che tanto assomma entrambe le categorie ricordiamo che tutti gli interisti votano PD quindi tutti gli interisti sono mortali sono mortali certo quindi quindi Socrate vota ma sì per chiuderla infatti Socrate era del PD e si è suicidato Socrate era del Fiorentino che peraltro ecco si accennava prima alla questione del furto che è un'altra cosa che la satira in rete è un tasto molto delicato perché dopo quelli che si lamentano perché hai fatto anzi no forse prima di quelli che si lamentano perché hai fatto battute sull'Alzheimer e sulla morte ci sono quelli che ti accusano di avere rubato una battuta e tu puoi vantare l'Alzheimer e quindi ti giustifichi vedi le cose si combinano una buona metà dei batti becchi su botte risposta sono sì ma io l'ho fatta questa l'ho fatta ieri ma tu non l'hai letta veramente questo rende ecco l'aspetto più irritante dello scrivere battute in rete tra l'altro io ho questo problema perché c'è l'UX che mi ruba tutte le battute e io non ce la faccio più ecco facciamo un po' di rinforzo perché l'UX non è qua però ecco perché dovrebbe essere che occhi hai eh che occhi hai perché non è qua su l'UX invece che gongolare laggiù la più cattiva della rete mortacci tua a casa facciamo i conti tra l'altro una cosa di cui non si parla mai è le battute copiate no perché ah no scusa se rubi a uno è plagio se rubi a molti è ricerca come dice sempre bottura ma non so di cosa parli hai lanciato questa bomba vogliamo parlare davvero siamo tutti ammutoliti faccio una domanda io che mi interessa la chiedo a Peter perché io penso che insomma il plagio sia una cosa in sé abbastanza brutta in realtà e credo che sia ancora più grave quando a plagiare è un professionista che plagia dei dilettanti cioè credo che sia umano rituitare o postare su Facebook la battuta scritta da un altro perché comunque ci piace avere dei like immagino che sia però quando vedo autori appunto che prendono battute dalla rete e le utilizzano io un po' mi incazzo perché penso sarò brevissimo che se tu fai satira cioè per dirne una dici che Berlusconi è un ladro no? e lo dici in battuta eh ma tu non devi rubare poi cioè non puoi cioè è proprio un problema di opportunità e quindi mi chiedevo questo e quindi mi chiedevo questo non so se Peter il libro di Marco Travaglio col fatto di Daniele Luttazzi col fatto quotidiano perché? in che senso? è perché la vicenda di Daniele è una vicenda la vicenda la conosciamo abbastanza pesante pesante antipatica esatto allora io che volevo bene alla Luttazzi come tutti i fan di Luttazzi finché non ho scoperto che buonissima parte del suo repertorio non era sua mi chiedo con che autorevolezza fai un libro in cui prendi per il culo le magagne etiche e morali di Berlusconi dopo che tu ti sei preso ore di repertorio da comici americani e l'hai spacciata ai tuoi fan come se fossero tu secondo me non è giusto non lo so io quello che mi chiedo è ma sei sicuro che per fare satira devi essere superiore moralmente rispetto alla persona di cui ti occupi è un tema che ti butto lì perché in fondo io come pubblico voglio ridere e riflettere poi non me ne frega niente se tu squarti le bambine nel frigorifero di casa meno male perché lo so e lo dico perché pensavo a te Luca ovviamente però esiste una cosa che si chiama no però non ho una risposta però è un tema secondo me importante cioè chi fa tassati allora se tu fai una battuta sulla droga non devi esserti mai fatto una canna un tiro di cocaina se la fai sulla morte poi è terribile non devi essere morto mi chiedo lo chiedo lo chiedo lo chiedo a tutti non ho una risposta è un po' diverso le battute sulla droga non valgono perché in genere siamo a favore credo che la domanda scusate credo che la domanda di Luca fosse di altra natura sì no perché io lo dico io dico la mia su tutta la chiarelle Luttazzi ripeto è da fan quindi da fan in qualche modo basito da quello che è successo cioè io mi aspettavo non le interviste al fatto quotidiano su ruoli attanziali mi aspettavo che dicesse ho sbagliato chiedo scusa e che ripartisse con un bellissimo spettacolo al termine del cuore noi sicuramente saremmo stati in platea ad applaudire a ringraziarlo di quello che fece no scusa finisco perdonami di quello che fece nel 2001 quando prese Marco Travaglio e lo portò in quella RAI che era una RAI oggi come allora governata e presa militarmente dai partiti facendogli presentare l'odore dei soldi ed è una cosa che ha una valenza secondo me quasi storica per cui noi dovremmo comunque ancora oggi ringraziarlo quello che è successo dopo rischia di portare in secondo piano quei comportamenti e quel coraggio e rischia tra l'altro di dare agli altri giornali satirici Libero il giornale tutti gli amici di Berlusconi a Libro Pag eccetera eccetera il destro per dire tanto quello è solo un copione siccome io non penso che Luttati sia soltanto un plagiatore sarebbe stato tanto bello se avesse fatto questo piccolo passaggio sarà che anche a me fotte un po' la formazione cattolica però io credo che la confessione l'espiazione a volte sia una cosa bella quando tu ti sei ciulato ore di repertorio di altri forse sarebbe giusto sarebbe stato giusto fidiamo Luttati ai servizi sociali o ai domiciliari sul punto proprio io la penso abbastanza come te rispetto alla confessione e l'espiazione detto questo ricordando anche Daniele le cose che ha fatto estremamente coraggiose che non era solo Marco assolutamente tanti altri a questo punto diventano fatti suoi poi di una persona che non sa bene tuttora tanto è vero che in pubblico non riesce a mettere il naso neanche per sbaglio ha fatto un libro al pubblico quel libro interessava ed era un libro che non voleva pubblicare nessuno peraltro non perché Daniele avesse copiato ma per i contenuti di quel libro che venivano considerati troppo pesanti troppo hard e quindi noi abbiamo pensato che fosse giusto poi fosse stato Peter Gomez che di cazzata ne ha fatto nella sua vita tendenzialmente anch'io ho questa cosa per cui chiedo scusa e mi batto il petto lui evidentemente non ce l'ha ma non è un problema che credo mi posso parlare io con il fatto quotidiano siccome il mondo era appunto quello del copiare io se posso anche da quasi conterraneo spezzare una lancia a favore di Luttazzi io penso che soprattutto chi ha cominciato a fare satira dopo di me negli anni 80 e 90 è un po' figlio di Luttazzi perché ha sdoganato un certo modo anche appropriando se ne penso che abbia peccato per troppo amore perché in effetti quando ti trovi di fronte a questo tipo di comicità americana così sovversiva così ben costruita c'è qualcosa che scatta e quasi riesco a capire come una alla fine si confonda voglia assomigliare talmente ai suoi modelli quasi da sì me ne aveva veramente tanti però ne aveva veramente tanti però se non ci fosse stato lui non sarebbero arrivati in Italia così infatti è stato diciamo un male benefico il problema è che poi lui si poneva come moralista e come difensore di quelli che rubavano i pezzi cioè in contrario come accusatore di quelli che rubavano i pezzi cioè nel senso che per esempio Crozza è uno che può permettersi di fare delle battute a un certo livello perché lui non si è mai posto il problema di dire io sono figo e tutti gli altri sono stronzi quindi a lui non verrebbe mai rinfacciato un atteggiamento sbagliato cioè riprendendo proprio più in generale senza fare nomi io posso fare battute sulla cocaina eccetera eccetera perché non mi metto a giudicare quelli che lo fanno mi limito a fare la battuta nel momento in cui io mi pongo come giudice che sbaglio e a quel punto devo essere inattaccabile e con questo mi sembra di aver creato un bel gelo quindi possiamo chiudere la serata preghiamo siamo tutti d'accordo in cui dice che serata è serata ragazzi mettetevelo in testa cazzo dobbiamo andare a dormire visto che è retarda l'orologio dice che è mezzanotte e sei quindi c'è la messa di mezzanotte è tardi è quasi la messa di Natale è quasi poi troviamo un bambinello qualsiasi quindi noi abbandoniamo il palco lo lasciamo lo lasciamo a te per l'appuntamento successivo tanto grazie di essere rimasti svegli per questa oretta di autoreferenzialità allo stato puro grazie e scusate tardi per me e restate con noi cioè restate con loro ciao ciao buonanotte grazie 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 grazie